eccoci qua buonasera a tutti vediamo stasera come rilevare i massimi e minimi di breve medio e lungo termine sui mercati finanziari è una sessione che volevo fare a completamento di un articolo che ho scritto sul blog un po di tempo fa l'articolo questo qui lo trovate nel blog come rilevare i massimi e minimi breve e medio e lungo termine volevo spiegare praticamente appunto questo concetto e adesso voglio fare qualche esempio pratico da aggiungere all'articolo ok quindi vediamo un attimo cosa scrivevo vediamo come è possibile rilevare i massimi e minimi di breve medio e lungo termine per anticipare gli sviluppi e le prossime tendenze questo argomento fa parte delle regole naturali del mercato che sono una definizione chiaramente che ho dato io a una serie di comportamenti del mercato che sono proprio la base del funzionamento ok costituisce un tassello importante le basi necessarie per la comprensione dei mercati finanziari e delle loro dinamiche quindi i mercati finanziari come si comportano ok come sviluppano le tendenze dove iniziano le fasi correttive e quindi dove inizia lo sviluppo di una nuova tendenza e quindi di una nuova prospettiva di breve di medio di lungo termine ok leggevi l'articolo io faccio adesso qualche esempio e nel frattempo spiego anche questa cosa quindi prendiamo la lavagna allora ho scritto anche un articolo di recente sulla teoria di do e do charts do praticamente spiegava che esistono tre tipi di tendenze al mercato chiaramente lui ha fatto questo questo un articolo sul wall street journal nel 1889 quindi una cosa un po fa parte della storia poi dopo di lui praticamente c'è stato elliot che ha completato praticamente questa teoria e poi ha spiegato che esistevano tantissime tendenze dai cicli più elevati ai cicli più ridotti infatti chi conosce chi conosce la teoria di elliot sa che esistono praticamente queste tendenze che lui va a prendere dai time frame molto molto elevati anche l'annuale fino praticamente al time frame più piccolo che completa praticamente ci sono poi tra il time frame più grande e il time frame più piccolo tanti cicli quindi non non solo tre tipi di tendenza come diceva come diceva charles do ma tanti tipi di tendenze quindi tanti cicli questi cicli praticamente si sviluppano partendo da quella che è la tendenza più ampia diciamo partiamo dalla tendenza primaria che io abitualmente rilevo sul time frame mensile quindi cosa rilevo rilevo innanzitutto un segmento di trend che va praticamente poi a terminare fino praticamente a iniziare la fase correttiva ogni tendenza io la divido in questo modo a un segmento di trend un collasso in trend una fase correttiva e al termine della fase correttiva il collasso in conto trend in questo modo si completa un ciclo da questo ciclo poi nasce uno nuovo quindi si sviluppa un nuovo segmento ok con questo segmento collasserà nuovamente produrrà una fase correttiva ok ho spiegato nell'articolo e ho spiegato anche un articolo più recente questo qui sulla teoria di do che noi andiamo a studiare le fasi correttive per anticipare le fasi propulsive cioè le fasi in cui si sviluppano i segmenti di trend poiché per fare profitto abbiamo bisogno di variazioni di mercato ampie più sono ampie per noi meglio è allora abbiamo bisogno di studiare queste fasi correttive per anticipare le fasi più ampie per questo è consigliabile lavorare in questa fase per sfruttare la variazione in trend piuttosto che lavorare sulla variazione in conto trend che sarà breve e veloce quindi significa che sarà breve si guarda poco veloce si è complicato lavorarci ok mentre in trend se si lavora in trend si svilupperanno variazioni di mercato ampie e ci vorranno tempo praticamente per svilupparsi quindi ci sarà il mercato il mercato ci sarà il tempo di ragionare sviluppare bene la nostra attività ok e sfrutteremo variazioni di mercato ampie quindi questo significa che i nostri profitti saranno ampi più ampi sicuramente del rischio esposto allora tornando al discorso del del dei massimi e minimi di breve medio e lungo termine noi iniziamo a studiare l'andamento della tendenza primaria che io rilevo sul time frame mensile allora che cosa adesso ho disegnato una tendenza primaria all'interno di questa tendenza primaria sul mensile abbiamo tante tendenze a più livelli ok la cosa faccio rilevo studio l'andamento della tendenza settimanale all'interno di un determinato punto della tendenza quindi prendo prendo praticamente questo per questo pezzo di mercato che volevo mettere da questo punto qui a questo punto qui e quindi ho un attimo il focus su quello che avviene in quest'area quindi questa tendenza primaria mensile sul settimanale in questo ambito qui che cosa vedrò vedrò nuovamente un segmento di trend ok è una fase correttiva che se sarà breve come spiego nell'articolo che ho scritto di recente sulla teoria di do questo anticiperà lo sviluppo di un'ampia tendenza ecco questo questo qui questa tendenza corrisponde a questa barra qui la fase correttiva che c'è tra questa barra e questa barra e questo pezzo qui e poi mercato praticamente continua quindi che cosa ho fatto fino adesso ho rilevato un massimo e un minimo di lungo termine sul mensile massimo e minimo di lungo termine questo massimo e questo minimo sono di medio termine ok perché sono i massimi e minimi che determinano l'andamento settimanale ok quindi abbiamo massimo e minimo qui se vogliamo dare dei numeri a questi massimi e minimi possiamo dare per esempio uno i quelli lì in rosso sono di lungo termine lungo termine sul mensile ok perché poi cerchiamo di essere cerco di essere più specifico poi abbiamo il lungo termine sul settimanale perché io utilizzo in genere la dicitura lungo termine per tutte le tendenze che si sviluppano oltre la settimana ok medio termine per tutte le tendenze che si sviluppano nel corso della settimana quindi qui abbiamo diverse settimane quindi qui qui siamo ancora in un ambito di lungo termine ma un ambito di lungo termine sul piano settimanale quindi abbiamo qui definito un massimo e un minimo di lungo termine sul settimanale no per come io utilizzo secondo la mia definizione chiaramente ok abbiamo definito un massimo e un minimo fatto dicendo troppe barre qui comunque non è tanto il numero di barre adesso che conta un massimo e minimo di lungo termine sul settimanale il mercato sale sviluppa questa tendenza nuovamente tornerà a produrre una fase correttiva e quindi il mercato produrrà un altro massimo di lungo termine sul settimanale un po' di casino ok qui abbiamo adesso un nuovo massimo e minimo di lungo termine sul settimanale lo mettiamo piccolino qui giusto per capire a cosa si riferisce ok cosa fa il mercato ancora sale quindi sviluppa l'ultimo pezzo di tendenza e collassa collassando inizia quella che è una fase correttiva quindi chiude un ciclo più ampio in questo modo il mercato ci sta indicando che sta chiudendo un ciclo più ampio ok quindi qui abbiamo un massimo di lungo termine sul settimanale che poi non produce più un minimo perché la fase correttiva va a chiudere praticamente il ciclo che abbiamo qui quindi il ciclo mensile adesso qui la fase correttiva dovrebbe essere più più ampia quindi questo minimo qui che abbiamo diventa un minimo di lungo termine sul mensile c'è questo punto 4 che abbiamo qui è chiaro avendo indicato avendo individuato il punto 4 quindi il quindi praticamente il no scusate no questa non sta qua no vorrei mettere il 3 qui ok e il 2 andava bene là ok quindi avendo individuato adesso un altro minimo di lungo termine sul sul mensile lo diremo chiaramente anche dal settimanale potrò andare a lavorare allo sviluppo di un nuovo ciclo mensile quindi lo sviluppo di un segmento di trend che solitamente dura da 2 a 5 barre e chiaramente questo mi dà un vantaggio strategico ancora andiamo nello specifico strategico perché perché chiaramente si svilupperanno nuovi cicli settimanali che io potrò sfruttare poi in vari modi andiamo ancora nello specifico per vedere se questo è un ambito mensile questo è un ambito settimanale chiaramente qui avremo a cascata massimi e minimi di medio termine sul giornaliero ok e quindi si svilupperà chiaramente lo stesso identico gioco io adesso sto disegnando tutte le dinamiche lineari semplici da capire il mercato però non si muove sempre con queste dinamiche lineari ma giusto per dare un esempio chiaro insomma è facile da intuire quindi questa tendenza qui che si sviluppa c'è una fase correttiva in presenza di una fase correttiva complese di profitto di dotte questo anticipa lo sviluppo di una tendenza e quindi in questo modo che cosa ho fatto? ho rilevato ho rilevato un massimo di medio termine ok un massimo di medio termine sul giornaliero finisco di disegnare così diventa più chiaro praticamente il mercato giunge qui e poi qui inizia la fase correttiva sul settimanale quindi ho disegnato male il resto questo serve giusto per far capire il concetto dei massimi e minimi di breve, medio e lungo termine quindi qui inizia la fase correttiva settimanale e inizia la fase correttiva settimanale infatti qui abbiamo poi 3 e 4 quindi abbiamo identificato massimi e minimi di medio termine sul giornaliero sappiamo quando inizia la fase correttiva settimanale quindi che chiude un ciclo di lungo termine sul settimanale e questo chiaramente anticiperà poi lo sviluppo di un nuovo segmento di trend settimanale è chiaro il discorso? e rileveremo nuovamente massimi e minimi di medio termine sul giornaliero e andando sempre a cascata stesso identico discorso per i massimi e minimi di breve termine che poi andiamo a rilevare per esempio sul time frame H4 ok? questa è la base di come il mercato si compone e si configura prima dello sviluppo di ampie tendenze dobbiamo tenere conto della struttura delle tendenze quando iniziano le fasi correttive più ampie della tendenza primaria sul mensile della tendenza di lungo termine sul settimanale della tendenza di breve termine sul giornaliero ok? e quindi anche ogni decisione di trading per come io lavoro dovrebbe scaturire da questo tipo di lavoro prima capisco come sta il mercato ok? il ciclo di lungo termine sul settimanale è giunto quasi al completamento perché sappiamo che un segmento di trend dura da 2 a 5 barre e comunque rispetta le abitudini recenti del mercato quindi se il mercato su questa coppia o su questo titolo o su questo indice ha sviluppato due barre nel corso due barre nel corso dei precedenti segmenti di trend probabilmente continuerà a fare così cioè manterrà la stessa abitudine ok? mentre se una coppia che produce 3-4 barre solitamente nei segmenti di trend continuerà a fare questo allora se qui mi configura su questa coppia 2-3 barre abitualmente se non la seconda e la terza configura un collasso so che si sta chiudendo praticamente il ciclo di lungo termine sul settimanale questo anticiperà una fase correttiva più ampia e anticiperà lo sviluppo di un'ampia tendenza allora a quel punto cosa mi conviene fare? mi conviene misurare la fase correttiva di questo ciclo per anticipare il prossimo ciclo e su questo vi consiglio di vedere l'articolo che ho scritto su questo argomento perché qui spiego anche il discorso delle prese di profitto e poi approfondisco ulteriormente l'argomento sull'ultimo articolo che ho scritto sulla teoria di Do andiamo a vedere dove sta la trovate qui la teoria di Do per comprendere la struttura delle tendenze perché parte da lui questa cosa qui delle prese di profitto ridotte che se sono ridotte entro il 33% o entro il 50% questo anticipa lo sviluppo di un'ampia tendenza ok? due articoli veramente utili secondo me per capire questa cosa io all'epoca quando ho iniziato ho dovuto studiare i suoi libri questa cosa e estrapolarmi le informazioni ok? e vi assicuro che è più difficile che trovarle belle e pronte quindi spero che vi possa far comodo per capire meglio l'attività insomma ok? ragazzi io vi auguro buona serata e ci vediamo settimana prossima ciao a tutti